Comincia per il Catania la marcia d'avvicinamento verso il derby con il Messina, partita molto sentita dalle tifoserie e ne programma domenica prossima alle 14.30 allo Stadio San Filippo. La squadra rossa-azzurra è reduce dal pareggio ottenuto negli ultimi minuti contro l'Akragas al culmine di una gara che si poteva anche vincere. Sia il Catania che il Messina per motivi diversi sono partiti in netto ritardo con la preparazione, tuttavia i risultati sono ben presto arrivati con gli uomini di Pancaro che sarebbero nelle prime posizioni in classifica senza i punti di penalizzazione e quelli di Di Napoli che sono addirittura secondi in gradatoria dopo il successo sul campo delle Melfi. Pancaro potrà contare a pieno regime di Musacci il cui ingresso in campo domenica scorsa è coinciso con un cambio di passo delle Catania fino a quel momento poco incisivo. L'altra carta da giocare potrebbe essere plasmati. Resta da vedere se dall'inizio a partita in corso magari concedendo al gigante di Matera uno spazio piuttosto consistente. Potrebbe recuperare Castiglie, forse pure Bergamelli. Fuori causa invece Falcone e Bastrini. In casa giallorossa la dirigenza punta all'afflusso di 20.000 spettatori, traguardo forse difficile da raggiungere. In ogni caso sono già 7.000 i biglietti venduti e la cifra è destinata a crescere. Domenica alle 15.00 l'Acragas gioca all'esseneto contro la capolista casertana. La squadra di Le Grottaie punta ad un risultato di prestigio per dare un seguito anche in casa a quanto di buono prodotto lontano da Grigento.